Bella a tutti ragazzi e ben ritornati su un nuovissimo video, io sono FR Manu, amici miei, oggi andiamo a commentare la sfida di Wolverine finale Andiamo a commentare in live perché siamo anche live, seguitemi anche mi raccomando Ragazzi andiamo a fare la missione risveglio di Wolverine, ovvero uso un emoto come Wolverine Non so cosa significa di preciso però io credo che appena già, come posso dire, atterriamo, per meglio dire spawniamo Già possiamo eseguire l'emote e sbloccare lo stile di Wolverine, veramente molto bello, i picconi sono veramente eccezionali Lo andiamo a rivedere subito, dopo ci catapultiamo in partita e lo andiamo a sbloccare Ovviamente dopo aver completato la sesta, la settima e l'ottava Ci sta un botto questo Ci sta, ci sta, ragazzi andiamo in partita, dai dai Ok ragazzi io direi di farla prima che parta il bus Vedete, appena spawnate potete completare la missione tranquillamente, avete sbloccato i picconi di Wolverine Ragazzi è una missione veramente molto semplice, ci sta, non aveva veramente senso metterla in difficile come ultima missione dopo 6 settimane Ci stava, ragazzi noi atterriamo più velocemente possibile, da come potete vedere è un piccone epico, ci sta veramente molto Credo che lo possono indossare tutti, o forse solo Wolverine Non ve lo so dire amici, non ve lo so dire Ora vedremo, non vi preoccupate Andremo a testare insieme Mi raccomando ragazzi se non siete iscritti iscrivetevi al canale, lasciate un bel like se non l'avete ancora fatto, ragazzi Proviamo insieme i picconi di Wolverine Vediamo il signor Wolverine come Sono veramente eccezionali Eh, non male, non male Ci sta, ci sta, è come ci sta Ragazzi ci sta un botto, si si, ha delle Le piccone veramente molto eccellenti direi Si si Ok ragazzi Abbiamo fatto la missione Ovviamente Li torna indietro, ovviamente prima Ovviamente toglie il piccone anche Veramente molto carino, ci sta E possiamo andarle equipaggiare quando vogliamo Li possiamo mettere E li possiamo togliere Ci sta, ci sta E come se ci sta Beh ragazzi direi di equipaggiarli E direi di salutarci qui ragazzi Mi raccomando ragazzi Se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale Lasciate un bel like Veramente ci stanno questi picconi Fatemi sapere nei commenti se li avete sbloccati anche voi Noi ci ribecchiamo Alla prossima, qui dal vostro mano e tutto Bella